Entriamo nella piattaforma Moodle del corso, la trovate all'indirizzo www.httpfondazionamiotti.org.arrivati lì facciamo il login schiacciando a destra in alto sul pulsante login ci porterà alla pagina d'ingresso dove inserire il nostro user e la nostra password e poi dovremo schiacciare il pulsante login una volta entrati possiamo accedere ai corsi quindi 3d per la didattica nel nostro caso nella pagina principale del corso vediamo in alto i due forum relativi al corso il forum news che viene usato solo dal tutor del corso per eventuali annunci o notizie importanti e sotto il forum del corso 3d per la didattica che è aperto a tutti i corsisti dove tutti i corsisti possono scrivere il loro post oppure rispondere ai post degli altri sotto abbiamo il programma del corso con i vari moduli sono cinque moduli di cui uno è opzionale cioè si può scegliere se fare questo argomento oppure un altro a scelta e più su vediamo il primo modulo che quello che stiamo svolgendo dove parleremo dell'utilizzo dei principali strumenti del programma per il disegno in 3d sketchup sotto il programma infatti troviamo subito il modulo 1 c'è una breve descrizione del programma sketchup make che è quello che useremo per la modellazione che è quello che useremo per la modellazione 3d e infine schiacciando sul nome sketchup make che è un link vedete se io vado sopra col mouse si evidenzia in rosso schiacciandoli andremo direttamente alla pagina di download del programma grazie a tutti